Fino a 236 pazienti in 24 ore, più di 500 accessi dal giorno di Santo Stefano alle 15 di oggi. Il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna è preso d'assalto, con accessi record quotidiani. Un sovraffollamento che si traduce per i casi non urgenti in lunghe attese per visite e accertamenti. Chi non ha reali emergenze deve rivolgersi ai medici di famiglia e alla guardia medica, è l'appello ripetuto dalla SST L'Ariana. Il sovraffollamento negli ultimi giorni, in concomitanza con le festività natalizie, è un problema che accomuna la quasi totalità dei pronto soccorso del territorio lombardo. Al Sant'Anna il 26 dicembre gli accessi al reparto di emergenza sono stati 236. Ieri il numero è sceso solo lievemente e i malati visitati sono stati 210. Alle 15 di oggi il bilancio era di 108 pazienti che avevano già effettuato l'accettazione, dei quali 17 codici rossi, ovvero situazioni critiche con la massima priorità, e 25 codici gialli, ovvero media criticità. Il sovraffollamento che stanno affrontando il pronto soccorso è legato, complice la stagione, all'aumento delle forme influenzali e patologie respiratorie, fanno sapere dalla SST L'Ariana. I pazienti che arrivano sono per lo più anziani e pluripatologici, condizioni di fragilità meritevoli di un'attenzione puntuale da parte del personale. L'impegno è massimo perché i disagi siano contenuti, fanno sapere ancora dalla direzione dell'azienda, ma in pronto soccorso è sempre il paziente più grave ad avere la precedenza e per questo motivo è possibile che i codici minori possano dover attendere. L'appello è per quanto possibile ad evitare gli accessi impropri. È sempre utile rinnovare l'invito alla popolazione a fare un uso appropriato del servizio di emergenza-urgenza, ripetono i vertici della SST L'Ariana, e utilizzare le risorse presenti sul territorio, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o il servizio di continuità assistenziale attivo nei giorni prefestivi e festivi.